Male i saldi, meno imprese nate, essenziale il supporto della regione e dei ristori in generale per non far crollare definitivamente il settore del commercio in regione. Potremmo proprio dare un titolo così. In Friuli, Venezia e Giulia esistono circa 78.000 imprese, di cui oltre 51.000 operative nel terziario. Il 2020 si è chiuso con meno 16% di nascita di nuove imprese e un numero imprecisato di congelamento delle chiusure di attività, sintomo di una profonda incertezza da parte degli imprenditori. Sono alcuni dati dell'osservatorio congiunturale curato da Format Search per Confcommercio e Friuli Venezia. Giulia è presentato questa mattina. Noi avremo da una parte le aziende che stanno in piedi sperando di poter aprire, che si sta allungando questo tempo sempre più in là, mettendo sempre più in crisi le aziende e aziende che non apriranno già più. Ma il tema è quanta gente rimarrà in strada, perché poi quelli che già non hanno aperto l'altro anno, non aprono quest'anno, possono licenziare e di conseguenza avremo veramente un problema sociale. Tutto questo si riverbara in un'ombra che si fa sempre più grande, quella dell'occupazione. Verso metà del mese di marzo licenzierò il terzo decreto ristori. Stiamo interloquendo con il governo centrale anche per quanto riguarda invece gli indennizi, che sono una cosa un po' diversa. Non ci voleva quest'ultimo blocco della stagione sciistica. Non tanto, guardate, io non faccio un discorso di sicurezza, di salute, non mi compete, ma le modalità con le quali il governo si è approcciato alla cosa, insomma, non sono state molto gradite. Per Paoletti è necessario sin da subito tagliare i pagamenti per chi non ha potuto aprire, in modo da mantenere la già ridotta liquidità data dagli incassi e i posti di lavoro. Bisogna mettere in sicurezza tutti i pagamenti di chi non ha potuto aprire per quasi un anno, devono essere posticipati di 18 mesi, per cui uno apre le attività, non deve pagare nulla e nessuno. Con gli incassi si mantiene la forza lavoro e si prende coraggio per poi rispettare i pagamenti fra un anno e mezzo. Se non si dà una dilazione di 18 mesi avremo una crisi senza precedenti.